Seduta pomeridiana del venerdì per i ragazzi bianconeri di Mister Pergolizzi che vedete iniziare l'allenamento proprio alle mie spalle in questi momenti. La partita ovviamente da preparare è quella con il Lecce di domenica prossima che inizierà alle 14.30 e non alle 15. Sentiamo allora il capitano Manolo Pestrin proprio parlare di questa partita ma anche della penalità ufficialmente arrivata ieri in corso Vittorio Emanuele e di molte altre cose. Ora si torna al campionato, c'è una grande squadra come il Lecce da affrontare in ogni caso la memoria va alla bella prestazione contro il Catanzaro dove la squadra è stata pulita dai tifosi. Sì, diciamo che fino a questo momento i tifosi ci hanno partito più di una volta anche magari quando siamo usciti sconfitti contro l'Aquila quindi questa è una cosa positiva che comunque dà morale e lascia comunque lavorare sereni una squadra che come la nostra comunque è partita un po' in ritardo con alcune difficoltà. Ecco, quindi da questo punto di vista ringrazio tutte le persone che ci sono vicini e permettono anche a ragazzi, magari anche un po' più giovani di poter lavorare con serenità e poter migliorare partita dopo partita. È normale che ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte che sulla carta è la partita per ambire a posizioni classifiche migliori di quelle che sta occupando in questo momento e quindi sarà sicuramente una partita difficile in cui noi dovremmo essere bravi a ribattere colpo su colpo e cercare di mettere in campo tutta quella determinazione e voglia che questo tipo di partite riescono a tirare fuori. L'ennesima penalizzazione arrivata ieri ufficialmente è un motivo per un po' distruggere il morale oppure è uno stimolo in più per far meglio? Diciamo che fino a questo momento le difficoltà sono riuscite magari a unire piuttosto che a disguicare questo gruppo e quindi cercheremo di fare ancora più quadrato e di fare ancora di più sul campo per quello che possiamo fare e di fare dei risultati sempre migliori. Non è una cosa che sicuramente fa bene a un gruppo perché insomma vedere che il lavoro in alcuni casi viene un po' disperso da situazioni estracalcistiche dispiace però non è una cosa in cui noi possiamo farci niente per quello che potremmo fare abbiamo fatto e per evitare queste cose cercheremo sul campo di recuperare i punti che sono stati tolti.